Allora, facciamo una discussione. Con te lo so, 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 te lo so. A visita di se gli arraggiori il capacolo. Così come le città, l'anagra della sua volta. E oggi, vicepresidente, ha lo so, Gioanni, che è la sua. Lasciamostante. Allora, vice papo, questa delibera presentata, la faccio di lasciare un solo scrittore che è l'assessore dell'altra, e altre persone che hanno condiviso questa, questo volo che viene libera. Oggi, consigliere, consiglio, ora, e qualche consigliere, dicendo, dobbiamo decidere se internavizzare o se, a rispetto, o lasciare in gestione esperta questa attività, questa senza tutta. Cioè, quindi, io, c'è quello che si dà, per sé, perché abbiamo già deciso di internavizzare. Abbiamo fatto una gara a salto, dove abbiamo in pazzo. E' stata andata in concessione a un'artista. E io vorrei capire proprio con questa risultata, qual è il pensiero dell'amministrazione. Questa amministrazione, capito, per gran parte, ricalca quella che era l'amministrazione che ha dato in concessione l'affatto. Allora, io dico, questa vita, ci ha soddisfatto, ha esprimato un servizio che sia stato utile, come dice il consigliere, il sabatoio di servizio, il sabatoio di servizio, il sabatoio di Ha dato, questo ci ha dato l'untino, il consigliere, la scuola di servizio. di come questa vita si sia comportato il corso degli atti. Consigliere Polizio e chi sta di cui l'ha cresciuto su questi banchi, il Vettore Atti ha sempre richiesto se la vita affidataria avesse rispettato la famosa convenzione. Sempre, d'aggiunto, da informazioni si esprimano su come questo lavoro sia stato fatto, perché dico, guardo adesso l'ha deliberato, ho capito la sua cosa. L'aggiunto è una scelta di deliberati, la stessa cosa. Cioè, se nell'accordo di legisperati si legge esclusa qualsiasi gestione e nel senso dell'abministrazione fondale, che in funzione a qualsiasi gestione diretta, provvedere a una gara d'abatto. Quindi le scelte dell'abministrazione sono state capate e, scusami, la sconsigliere Polizio, sono state possibilità della professore, che era evidente di cosa giusta. Allora, e di sconsigliere Polizia, che sconsigliere, 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 con le sceglie. Allora, o la sessiona del Stato di Emilio a Milita, ovviamente poi si prenderà tutte queste politiche, perché, comprendo i rispi di saperte, che è siccome se la politica ho detto, devo giustificare un contegno di un atto contro il Consiglio Volare, e chiedo alla mia maggioranza di votare quest'atto, dopo di che, politica, non Non significa che di coprindere acto il fatto che non è quinto una maggiore pazzola non lo dice, no, 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 lo dice Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.